Madonna che palle Con sto Yorko Andrew madre mia Mi fai un piacere guardi la scheda di Yorko Così magari te lo metto No non lo metto Manco se scrivi Yorko viene fuori Ippa immonda Dicone Scarso da fare schifo Ha detto che Calzona usa una difesa Fatta con il righello e che non va bene E che se andiamo con la difesa tutta linea Così ne prendiamo 4 al camp no Ma poi che cazzo vuole Ciao Davide 40 milioni Yorko Tra l'altro la vittoria contro la Juventus Mi è fatto godere anche a me come un rizzo Quest'oggi Come detto andiamo avanti con il calciomercato Ma abbiamo la prima partita Oddio Abbiamo la Supercoppa contro il Gank E forse potrebbe uscirci anche la prima partita di campionato Però 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 Quello che dobbiamo fare È andare a prendere un Trequartista Perché nello scorso episodio che vi invito a recuperare In caso ve lo siete persi Abbiamo Sistemato Sistemato Tecnicamente sistemato Numericamente Numericamente almeno la difesa Con l'arrivo di Josè Marsà Jensen Hebill E poi vabbè Era già arrivato Un beso Che però purtroppo si è infortunato Abbiamo preso anche dei Kuiper Quindi anche l'esterno di sinistra titolare L'abbiamo sistemato Adesso Bisogna solamente Eh Andare a Prendere un trequartista E come avrete notato Che in questo momento c'è chi zito Come avrete notato Ho dato una rivisitata anche a quello che Dovrà essere Il 4-2-4 Che utilizzeremo In fase Di Difficoltà Magari Ovvero Quando magari siamo sotto Dobbiamo andarla a riprendere Ma mancano pochi minuti Ho cercato di creare questo modulo Ho messo un po' di istruzioni Poi magari lo testeremo E vedremo se le cose possono andare bene L'unica cosa che sono andato a sistemare In realtà Sono i nostri terzini Li ho messi a tacco In modo che possano In modo che possano spingere I due centrali Uno è Un centrocampista difensivo Di supporto L'altro invece Difensivo Poi gli esterni Uno è un'ala Invertita Classica L'altro invece Un esterno classico Poi abbiamo due centri avanti Per il resto Non va a cambiare molto Sinceramente Ho fatto cross Stesi Forse potremmo fare Cross più 20 Perché avendo due attaccanti Che comunque non sono malissimo Di testa Soprattutto magari Lo sceriffo Lo sceriffo di testa È messo molto bene 15 Quindi forse Cross più 20 Potrebbe essere Non male Il Nikena 12 Però vabbè Ci sta Il nostro modulo Comunque rimarrà Questo E non cambieremo Praticamente nulla Besso Si è fratturato L'avambraccio 4-6 settimane Però noi Come primo sostituto Abbiamo Van de Bosch Mentre Alvarado Alvarado qualcosina Circa No E questo Ah no 5 giorni Mi sembrava Dovesse stare fuori di più Andavo a memoria A noi ci serve Un trequartista Ragazzi Ci serve un trequartista E Eppure Un attaccante Ovviamente Pure un altro attaccante Serve anche Un altro attaccante Sì Perché il primo sostituto Di Lenny Kena Non può essere Lo sceriffo Ragazzi Dai parliamoci chiaro Non può essere Lo sceriffo Ci vuole qualcosina Di più Per quanto riguarda La trequarti Invece Non è che avessi Messo Qualcosina A seguire Ma niente Di Di eccezionale Ecco Quindi sono un po' In difficoltà Da questo punto di vista Ci potrebbe essere Stain Del Tuente Uzzun Mi ha infortunato Potrebbe anche farla Quella zona Di campo Ho messo qualche Altra esterno Non si sa mai Però Se avete qualche nome Volentieri Brawnloader Non si vende A me Non lo vendo Non lo vendo Tra l'altro Vale Ma vale ancora poco Secondo me Vale ancora poco Può fare molto di più Scusatemi a volte C'è un po' Il roschino Glowk Che Cazzo Glowk No no Elenichena È tanta roba Costini Costini ha rinnovato Ma come trequartista A me serve un titolare A me serve un titolare Qualcuno che possa avere Una buona finalizzazione Domani esce Forest Challenge Ma è uscita di martedì Davidone Domani esce la carriera Nippan è già andato Ora secondo me Glowk vale un po' Troppo Sì infatti Nippan no È già andato Si è già trasferito Brass Non so se mi è proprio Un trequartista Minda Chi straminchia è Minda Kevin Minda Alan Minda Alan Minda Esterno Lo mettiamo a seguire Oristanio 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 Non è per niente male Oristanio 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 non mi dispiace Sai Secondo me vale 20 milioni Sai Bari 30 Siamo Grumbike Porca troia Quanto costano Costano tantissimo Ragazzi Costano troppo Hackman Sarebbe già pronto Non credo Aras Non costa troppo Ragazzo Cioè Dobbiamo andare Su Su gente Come Come potrei Andare Lui Oddio ma questo è il fratello Questo è il fratello Raga Questo è il fratello È andato a giocare Anche lui Nell'Ill Mitico Michelsen L'ho messo a seguire Con l'fk Palofoten Dai mettiamola a seguire Mannazza Testo taglio di Gavele Esatto Andiamo a fare Una piccola Ricerchina Anche Con il contratto In scadenza Cosa facciamo 6 mesi Cosa conviene Non credo ci sia gente Che ha il contratto In scadenza Di un mese Ciao Tost Ti vedo del tutto ripreso C'è un po' di rosghino Qui ci trasferimenti Vedi chi ti suggerisce il DS Allora facciamo un attimo così Prima Come Come faccio Tecnicamente dovevano essere qui Ma forse dovevo creare un gruppo Suggerisci obiettivi Ma come Antonio Candreva Speravo meglio Speravo meglio Allora State mettendo dei bei nomi Vediamoli Stess Non è lui Non ho visto se l'altro era il Frank Faroche Ma non è lui È lui Forse è lui Sven Questo è un po' troppo Ma Van Hoisen Era trequartista Dimissore centrale Chris Cioè Versharen Forse Le Fee Non ci guardo nemmeno Costa troppo Come sicuramente Rieder Vediamo Sì Bra La madonna mia Si scrive Ah E' là Però forse lui in prestito me lo danno Darvich Nome favoloso Anche se Boh Nella Germania gioca da attaccante 21 milioni 27 milioni Fenomeno Vero Mister Grazie per il ride Grazie per il ride Benvenuti a tutti Allora Devo rispondere a chi È stata convocata una conferenza stampa Al Partecipa Partecipiamo Partecipiamo Positivo Braccia distese Positivo Braccia distese Positivo Braccia distese Positivo Fatta bene? Godo Ciao Babi Ciao Gramo Daniel Maldini Daniel Maldini Daniel Maldini Uno dei calzatori più scarsi Del panorama Calcistico Mondiale Mondiale Non Non Europeo Non Italiano Mondiale Top 5 Secondo me Dei più scarsi Eh beh Loro vogliono La vittoria Loro vogliono La vittoria Della Della supercoppa Henry Un saluto dal traffico di Roma Porca paletta Occhio eh Fai attenzione Mi raccomando Fai attenzione Allora Dicevamo Guardiamo un secondino Magari Contratto in scadenza Sei mesi Trequartista Oh L'ho tolto Scusate Vediamo cosa salta fuori Che magari Qualcosina in meno Si trova Grotem E vedo Della bella robetta Fabrizio Dominguez Questo comunque Non è marcio Come esterno Pagato 4 scoreggi E questo Plus Valenzi Plus Valenzi Oh Iataren Momoiata Proprio lui Mamma mia I brasiliani Sono finiti pure Nella Massima Lega Finlandese Qualche settimana E vi porto A vedere Tutti gli stadi Della Della serie A Finlandese Stay tuned Un po' delle Merde Iliocco Compreso Un po' delle Merdone Purtroppo David Martinez Che è un'ala Lo so bene Però ho visto il Monagas Magari C'è che Esca Magari C'è che Esca Questo sarebbe Sicuramente una buona Plus Valenza Si può anche prendere Lasciarlo in prestito Dopo facciamo il set Lego Domani Domani Ciao Ale Domani facciamo il set Lego Domani è chiacchiera Più set Lego Buonasera Un consiglio Sono con il Boca Junior Ho bisogno di un terzino destro Esperto per poter Ambire la libertà d'Ores Ho venduto ad vincola Che non voleva rinnovare Sono al primo anno Agosto Oh Non ne ho la pupale L'idea Vecchio Non ne ho idea Su Football Manager Immagino Ma tipo Yedlin Non mi ricordo neanche Se è a destra o a sinistra Yedlin Però al Boca Ho non Rainier Che fa ciccico Colchiale Suslov Un pochettino Me lo fa Arrissare Però secondo me Costa troppo Bernabe Kendrick Paez Finchia Southampton Ma scusatemi Permutez Lo metto a seguire lui Io lui lo metto a seguire Aspetteremo ragazzi Lo stoccarda Interesse per Velasco Ma L'avevo messo a seguire io Velasco Che valeva 4 scureggine Non ho capito Velasco se ne può andare Ma Jesus Ferreira Non se ne può andare Brutti malandrini Finale ci siamo Siete pronti Al primo psicodramma Della stagione Padonna Non vedevo l'ora Non vedevo l'ora Quanto mi era mancato Quanto mi era mancato Lo psicodramma Test fisici Vediamo Ma chi è Merckx Ma è il portiere Ma scusate Signori Siamo pronti Mi andate attraverso Un po' di vita Mi andate attraverso Un po' di vita De Marcos Un anno e mezzo Addirittura Ma va Torni prima in campo Un ritorno di Trezor In Belgio Ma Guarda Tommy Non so Secondo me Trezor Qui su Football Manager Potrebbe costare Anche 40 milioni Così eh La spariamo Però evidentemente Non è ancora Non è ancora Capito come funziona Il gioco 31,50 Dai Siamo andati Abbastanza vicini Tu però Ancora non hai capito Un cazzo Stroke Però Super Mario Non mi dispiace Super Mario Però secondo me Anche lui 25 25 milioni 25 milioni Stroke C'ha sempre Sto cazzo di nome Che Faccio fatica A scrivere Però Leone Leone Ha un Classicone Leone Leone Ha fatto la gavetta Ragazzi Leone Ha fatto la gavetta Tra l'altro Stroke È già andato Mi dicevano George Mi Ai Lo Dice Ah Sì Sì Non lo Vedo Quindi probabilmente È già andato Stroke Stroke Wilkins Mario Stroke Ma Insomma Forse Collerate Si può anche Prendere Ma Sono profili Già Estremamente Troppo Più Forti Per noi Valentin Carboni Ma vediamo Magari Football Manager Si è dimenticato Di mettergli Un presto Senza Senso Ci va Ci va Ragazzi Per il ritorno Al Al Psicodrammismo È semplicemente Un vinco Perdo Pareggio Niente di più Semplice Quest'oggi Niente di più Semplice Per la supercoppa Per la supercoppa Con qua mi hai chiedito Sulla tre quarti No Non è vero Assolutamente Sulla tre quarti Ci andiamo Con Brown Oder Il nostro stile Di gioco Non è cambiato Da valutare Chiaramente Una linea difensiva Completamente Nuova Che però Adesso Ha qualche Possibilità In più Di giocare Con la difesa Molto Molto alta Prima Facevamo un po' Di fatica Magari Venivamo presi Un po' In controtempo Adesso Diciamo Che Le cose Potrebbero andare Un pochettino Meglio Perché no Da questo punto di vista Poi Oggi siamo purtroppo Obbligati A Poi purtroppo Siamo obbligati A giocare Con Sonco Titolare Sulla sinistra Andrejka Sulla destra Pronto a subentrare Mamma mia Ragazzi Ma Valencia Dove strami Ah Valencia Non l'ho No Valencia Scusate Ma Valencia Non l'ho registrato Dov'è Valencia Dov'è Valencia Valencia Dove l'ho messo Valencia Dove me lo sono Infilato Valencia Qualcuno si ricorda Se avevo fatto Un danno Con Valencia Anthony Valencia Veccio Dov'è ciò O fra Ma Io ti voglio bene Dove sei andato Valencia Lo portiamo al posto Di Scott Mamma mia Manca Manca comunque Qualcuno Manca comunque Manca Verve Manca Manca qualcuno Che alzi Anche un po' L'hype Di questa squadra Che si è rivoluzionata E non so Sinceramente oggi Come potrà andare Confermiamo E andiamo a Psicodrammare Maxime De Kuiper E Mom Sonco Non sono in forma Partita Ciao Scott Quanta Quanta ansia Quanta ansia Friati sto 23 Alla materatti Van de Bosch Tanta paura Tantissima paura Tantissima paura Tantissima paura Di Di Anche perché Anche l'anno scorso Abbiamo perso La supercoppa Contro il Mechelen Adesso abbiamo il gank No Aspettate Vedete Non sono neanche più Abituato Non sono neanche più Abituato Tattiche Avversario Steccare in maniera Fantag Fantag Fantascientifica Oien Sempre costantemente Steccare Marcatura Strettissima Strettissima Stecchissime Su Arocodare Facciamo giocare Sul sinistro Fadera Stecchissime Stecchissime E poi Il problema Sono loro Il problema Sono loro Sono gli esterni Andiamo Andiamo Ragazzi Ragazzi Si comincia Forza 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 ragazzi Dopo una stagione Storica Non possiamo Continuare a guardarci Indietro Bisogna guardarci Avanti Vi è piaciuto Il mio discorso Motivazionale Dai Tanta paura Non mi ricordo più Come funziona Questo gioco Il mercato Mi ha distrutto Il mercato Mi ha distrutto Preso un fenomeno Giorgiano Eccoci qua Via Ecco qua Dopo dieci minuti Psicodramma Penso record Penso record Marsa Dove stai Dov'è Dov'è De Kuiper Lute Se oggi Prendi i gol Ti caccio Perché buti Il capitano Mamma mia Non sono pronto Non sono pronto Al piazzato Di Pinesil Bravo Ebiu Vabbè Vabbè Non sono più In grado Di gestire Queste emozioni Ragazzi Ho dimenticato Come era Soffrire Per le partite Attenzione De Kuiper Alla battuta Il mancino A rientrare Costigna Sempre lui Always Costigna Lidicane Andreica Sonko Momo Momo Sonko Ha preso il palo A porta vuota Momo Ha preso il palo A Momo Sonko A porta vuota Che cazzo No Butte Non fa per me Questo gioco Mamma Il volo D'angelo Mamortacci Bellissimo Mamodou Momortacci Sonko Mamma Mia costruzione Dal basso O regalo O regalo Di Natale Costruzione Dal basso O regalo Di Natale Di costruzione Per il momento Non vedo proprio niente Hai dei Kuiper L'ho preso Per una motivazione Mettere un pallone È diventato Un'azione chiave Per il gank Incredibile Pazzesco Che toh E invece no È un'azione chiave Per l'anversa Undreica Mettila bene Ma sono azioni chiave Perché mi sembra Tutto così una merda Pensa un po' Vabbè che è una partita Praticamente di precampionato Vermeeren Brown Niente Non riusciamo Brown Oder ancora Caparbio L'allarga per Undreica Ancora Jacob Undreica Al centro Brown Oder Non serve Il trequartista Non serve Il trequartista Ce l'abbiamo in casa Mattias Brown Oder 1-0 Non serve Il trequartista Ce l'abbiamo in casa Van con Brugge Male 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 Van con Brugge Finita sta partita Raga Andiamo subito Su un trequartista Però Brown Oder Fallo Direttore Vermeeren Ancora noi Siamo pariti bene Un po' Per soffrire da Costigna Costigna Al centro Un trick Devi farlo quello Devi farlo Devi farlo Devi farlo Però bene De Kuiper Bello Bellissimo Non ci credo Ancora Van con Brugge Ma hanno venduto Van de Vort Ancora De Kuiper Non batte Dei cattivi angoli Ma vai a fare In culo Ma poi Stai zitto Menzo No Bisogna dire che Brown Oder Ogni volta L'abbia messo lì Ha risposto presente Su questo Non ci piove Cioè proprio È proprio Una roba oggettiva Non è che uno dice Sì però Boh Ha risposto presente Sempre Anche i numeri Alla mano Però Ragazzi Cioè posso affidarmi Veramente solo A Brown Oder Je ne crede pas Se anche trovassi Un giocatore Al suo livello Qualcosina di più Potrebbe starci Comunque Fine primo tempo Anche dal punto di vista Fisico Mi sembra ci siamo Quindi non vado A fare i propri cambi Vado semplicemente Nello spogliatoio A stringere le mani Ai miei giocatori Stringiamo i pugni Anzi non le mani Assicuriamoci di fare le cose per bene E di portare a casa il trofeo Puttana troia Puttana troia Non siete poi andati male Continuate così Dai 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 Marsa Spaccone no eh Non ne voglio di spacconi qui Vi leggo Vi leggo Vi leggo Hanno appena bustato la porta Brown Oder Chi dice che il trequartista Ce l'abbiamo in casa Quindi ora Va bene Ok Guarda a caso Costegna migliore in campo Solo Vabbè adesso Costegna ogni cosa che fa È idolatrato È migliore in campo Solo perché passa Tantissime palle Mentre ogni tanto Vai a vedere Le situazioni Per gli avversari E aggiornale Oddio perché Perché cambiano Ah Ma In che Cioè dici Io lascio restarei così Forse sai cosa Due stecche in più Per Heinen Che mi sembra Molto in palla Ciao Trinchetto Vandevurte In presidio dall'Ipsia Cosa Ciao Guzman Anche Merdin Che forse in attacco Potrebbe non essere male Ma vabbè Secondo tempo Se cambiano i giocatori Cambiano l'istruzione C'avete ragione Tenere d'occhio tutti Eh Tenere d'occhio tutti Tenere d'occhio tutti Bravo Vermeeren Bravo una sega Bravo veramente una sega Che palla è Vermeeren Che palla Qualcuno lo fermi Bravo Bravo una sega In mezzo Non è niente Nessuno è stato bravo Il tiro era centrale Basta dire bravo a tutti Bravo Però gliel'hai regalata Mamma mia Pinesil Mamma mia Nooo C'è sempre Luca Oien È sempre Oien È sempre Oien Non riusciamo a fermarlo Sto bal dracone Non riusciamo a fermarlo Sempre sto spazio Ma fammi vedere Perché siamo usciti su Ma vabbè Ma Marsa dov'è? Ma dove si trova Marsa In questo In questo preciso istante? Che di concentrazione Ragazzi Dai ma che è? Ma che gol è? Cristo È una partita che 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 comunque Come pareggio ci sta Però Loro non stanno creando Particolari occasioni Pericolose In realtà Tiri del cazzo Ma tiri Ma non me ne sono neanche accorto Di avergli detto Bravo ragazzi Allora È uscito È uscito È uscito Oien Sabrà un'odera E che i ta Che stanno Sono decimati Allora Servono cambi Servono cambi Servono cambi Allora Allora Andiamo con un Dreyka Sulla tre quarti Dentro Valencia Fuori Brownwater E uno Poi Yusuf Al posto di Keita I due Le Niken Oggi Veramente non bene Chi zitto No Non ce la faccio Ragazzi Aspetto lo sceriffo Io ho paura Anche per Kuiper Ho paura Per Kuiper Perché è stanco Ho paura Per Kuiper Perché è stanco Per il momento Andiamo così Chi zitto il cambio Per i rigori Anche Costini È molto stanco Non si crea più? Puttana Se esce Costinia Non gira più l'anversa Ma questi livelli Olè Ottanta cinquesimo Aspettiamo un attimo Quattro minuti di recupero Non attacchiamo più Però noi Bisogna dire Che non stiamo più creando Ma io non me la meritavo Questa cosa Io non me la meritavo Questa cosa Raga Io non me la meritavo Questa cosa Vi faccio il pronostico Vi incoperdo Vabbè ma è chiaro Che vado a perdere Ragazzi È chiaro Che vado a perdere Come butte Guardate che rigoristi Abbiamo Ma puttana Tra l'aria Costinia Non primo Mai capita Sta cosa Dici Cosa ho cliccato Non mi interessa Deve andare Come deve andare Boh Buona fortuna Ma cosa vuol dire Credo in voi Buona fortuna Butte Motivato Cioè io proprio Non me la riesco A portare a casa Sta super coppa Seconda l'inter Prossimo stagione Continua un ciclo Di vittorie O delude Dipende un po' Anche come va Il calcio mercato In generale penso che Possa essere diventato Una mentalità importante Però fare Fare come quest'anno Credo sia oggettivamente Quasi impossibile Quindi qualche sconfitta In più magari Me la aspetta 50-50 Non so che bettare Manco io Bettate però 5 secondi ragazzi Si va Se non avete bettato Posso dire che Non siete veri uomini Ago Tommy Libanese Avete bettato No Ragazzi Senza 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 No Ragazzi Se non avete bettato In questo momento Abbastanza schifosi Niente Tommy ha bettato Vabbè Ago Il solito Caga sotto Ovviamente Libanese Ha bettato Vabbè Ago Veramente Ridicolo Abbastanza Libanese Ok Per fortuna Che Tommy Libanese Sono sani Andrew Andrew E Ago Veramente Imbarazzati Cioè Ago Sta usando La scusa Del Mi si è Bagato Twitch Zio Porch Ma come si fa Ma come si fa Ma come si fa La scusa Per non aver Bettato Ho cliccato E mi dà errore Certo Se betti A zero secondi I rimanenti Pagliaccio Che non sei altro Ti dedico A questa sconfitta Ago Ago Un Ago Grazie. Grazie. Basta Bute, io non ti voglio più vedere Bute, mi hai rotto il cazzo. Basta, basta, non ti voglio più vedere. Io un'altra stagione con te in porta non la voglio più fa. Non la voglio fa. Adesso pure batte il rigore, mannaggia la puttana. No, non lo batte lui. Chi lo batte? Io non lo posso. Andrejka. Basta Bute, basta Bute. Basta. Basta. Basta Bute, basta. 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 Basta Bute, io non ti voglio più vedere. Non ti voglio più vedere, non ti voglio. Non ti voglio più vedere. Però se lo pare ad arocco dare potrei godere in un poco. Poi ditemi se devo perdere con il rigore sbagliato da Holloway Scostigna. Pazzesco, veramente. Pazzesco, veramente. Ma vai a cagare, va la Bute. Pagliaccio. Sacco di merda. Sacco di merda. Date a fare in culo, siete delle merda. Io da Zon non lo voglio più. Non lo voglio più nei miei spogliatoi. Dove sei Bute? Vai a fare in culo Bute. E il primo psicodramma ce l'abbiamo. Basta. 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 Bute, trovati un altro lavoro. Trovati un altro lavoro. Non mi interessa. Bute, basta. Vai. Vai. Sean non vuole andare via. Non so se hai capito che... Io non... Abbiamo perso di nuovo. Rustinia l'anno scorso aveva iniziato con tantissimi rigoli sbagliati. Abbiamo ricevuto 20.000 euro così, giusto per asciugarci le lacrime. Benissimo. Vanda Stegeman. Fantastico. Bene. No, allora, ragazzi. In generale, comunque, abbiamo perso i rigori. In generale, la prestazione non mi è dispiaciuta. Abbiamo preso un gol un po' de merda. Lì, difensivamente, ho visto un Marsa... Non... Non informissima, bisogna essere sinceri. Però è arrivato da tre giorni. Noi gliene possiamo fare una colpa. Scegli il capitano dell'antro per questa stagione. Vermeeren. E poi vice Costigna. Di certo non butee. Di certo non butee. Allora, giusto un paio di giorni, poi ci tuffiamo di nuovo sul mercato. Finché non vendiamo butee, ragazzi, non posso andare a prendere nessuno. Purtroppo. Se non arrivano offerte per butee, mi spiace, ma... Tra l'altro... Scott... Potrei avere un'offerta. E la stessa cosa per Duomo. Ciao, Orlando. Supercoppa è veramente buggeata. Sarà possibile non riuscire a vincere la... Messi, grazie... Stefano! Ehi, l'anno! L'anno! Grazie! Grazie, Stefano! Beh, so già se hai fatto male, eh, sì. Come stai? Messi? 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 Ma come è simpatico a Muzzo? Finalmente! Dopo 75 anni! Tutto bene, tutto bene. Un po'... Un po'... Affaticato. Un po' influenzato. Ma un bel 4-3 no, vero? No, vero. Esatto. Alto rischio. Qua Mekizito, Marsa... Alto rischio. Abbiamo detto alto rischio. E allora... Un bel riposone. Oh, beccatelo. Facciamoci sto bel riposone. Bravo! Allora Ebio... Che si allena bene. Nessuna offerta per Butè. Ok. Metti i butelli sta trasferimenti. Oddio. Così? Oh, attenzione! Larus! Larus! Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Vabbè. Allora, qui... Togli. Proviamo a chiedergli... Un milioncino e otto. Uno e due. Proviamo due. E basta. Come il giocatore sta al PG è una giovanita... Dai, vediamo. Credo che un accordo per questo preso non possa essere aggiunto e hanno deciso di abbandonare la trattativa. Però vabbè, manco fa così. Cioè, 800 mila euro in più. Barboni che non siete altro. Ciao, Pepita. Intrattabili. Intrattabili. Oh, la... Offerta per il prestito all'Arminia. Rifiuto. Bodevitt. La società ti chiede a prima di rispondere la cia per l'ingangio a me. Cioè. Cioè, te per bere dove le hai messe le orecchie? Hai bevuto? O te la sei magnata l'orecchia? Dai, ma ti mangerai le orecchie? Ma c'hai ormai sei mesi. Ancora non ti rendi conto che sono le tue orecchie? Non te le puoi mangiare. Ponto cielo. Bella l'offerta dell'Andelec per Duomo. Bella. Veramente... Veramente bella. Veramente notevole. Sei rate? Stai a fare il culo. Dai, grande Ago. L'ho messo a seguire prima, David Martinez. Pepita? Eh, cosa vuoi? Dai! Su! Che bella che c'è di ventale. È cresciuta tantissimo la Pepita. Ve la mostro un attimo, poi torniamo qui. Perché mi segue da tanto, si è... se la ricorderà che era piccinissima. guardate quanto è grande adesso sta Pepiniella. Guardate che robetta. Guardate quanto è grande adesso. Ehehehe. Un buss. E' gigantesca. Ehehehe. Amore. Mamma mia. Che bella che è. Che carino. È una femmina, è una femmina. L'ha confermato. Buttecercato in prestito dal Tottenham. Ma come in prestito dal Tottenham? Datemi 10 milioni. Ciao a tutti. Ciao a tutti. No, allora. Allora, da un lato dico però però posso dirti che non mi dispiacerebbe dall'altro. Dico, sai che forse se avessi chiesto, non so, tipo 15, 16 però sapete che c'è. Che c'è. Ciao. Accendi l'aereo. Accendi l'aereo. Hai fatto la cosa che ti riesce meglio paccare. Benissimo. Ragazzi, va. Probabilmente va. Ciao Anza. Nicolas, grazie mille per il Prime. Benvenuto. Spero di vederti con noi per tantissimo tempo. Allora. Prima della parita contro il Mechelen. Punto di... Punto di riflessione un attimo. Perché probabilmente Butte con il Mechelen gioca. Allora. Partita in conflitto. Ma chi? Ma non c'è nessuno. Banfield ha offerto un contratto a Augustin Roberto. Se accetterà il giocatore, si aggregherà la scadenza... Ecco. Allora. Intanto. Contatta per ingaggio. Augustin Roberto, me lo piglio. Arriverà nel caso a gennaio. E poi lo daremo in prestito nel caso. Ma con questo... Ci si fanno... Un pacco di soldi, ragazzi. Quindi... Andiamo un attimo su di lui. Facciamo un contrattino. Ok. Veloce, veloce. Rapido, rapido. Rimuoviamo tutta sta pagliazzata. Il 10% te lo lascio. Possiamo fare anche 5 anni. Quella roba lì te la propongo. Vai. E lui magari ce lo portiamo a casina. Poi... C'era anche Aravena. Aravena era in scadenza. Sì. No. Ah, ok. Forse ancora non è in super scadenza. Comunque. Non so cosa voglia dire. Lista selezionati. Sulla tre quarti. Sì. Steyn. Kanuzun è ancora infortunato. Nipan non si può. Ibrahimovic. 12. Ibrahimovic non è male però, eh. Ibrahimovic non è male. Ibrahimovic non è per niente male. Cosa dite ragazzi? Andiamo su Ibrahimovic sulla tre quarti. È in prestito raga. Allora, cosa gli offriamo? Andiamo a Darvich. Dici che in prestito me lo danno? Darvich lo vorrei sinceramente. Finalizzazione 11. Passaggio 14, tecnica 16. Dai proviamo. Ah, l'han già fatta loro la richiesta. Barcellona chiede un contributo pari a 380.000. 70% se dovesse giocare. E pari se non dovesse giocare. Più una quota mensile di 175.000 se dovesse giocare. E di 350.000 se non dovesse giocare. Il prestito sarà rimandato a... Il prestito sarà rimandato mercoledì 1 gennaio 2025 in quanto i giocatori andrì sotto che giocano alla Spagna non è permesso della sfidersi all'est. Ma cosa minchia vuol dire? Non me lo darebbero ragazzi. Il prestito sarà rimandato a mercoledì 1 gennaio. Non posso prenderlo. Compralo. Ma come compralo Damiano? Ma hai visto quanto costa? Io non me ne faccio niente. Ecco mi offre i giocatori poi però... Non conosci le regole. Ma voi l'avete visto? Lo stipendio se non gioca 1.400.000? Ciao Feferra. Zitto. Zitto. Zitto che stasera c'è l'Arsenal. Zitto che stasera c'è l'Arsenal. Ferra. Zitto che stasera c'è l'Arsenal. Anche perché non solo sarebbe un All-Star Limit. Sarebbero anche 50 euro. Zitto. Oristanio. Signori prendo Oristanio. Che sono attaccante. Nanasi. Nanasi ragazzi. Figliamo Nanasi. Figliamo Nanasi. Carboni? Fammi vedere perché Carboni l'abbiamo già inserito. Ma io qui non li trovo mai. Forse non l'ho inserito nella lista. Guarda David Martinez, Menzo. Guarda David Martinez. Guarda David Martinez. Eccolo Carboni. 700.8 8.4 Minchia. Finalizzazione di 14. Non lo palla. Ma io piglio Carboni. Dai. Piglio Carboni. Ok. Ok. Guarda che è frontissimo. Sì, Ago. Ma l'ho già inserito io. Non servivi te. Non servivi te. Non servivi te. L'ho già inserito per conto mio. David Martinez. Non servivi te. Allora. Carboni. Io un milioncino te lo do. Poi ti vado a inserire fine stagione belgio. Cosa... Ma cosa stai dicendo? Tre commode rate annuali. Au. Da 500.000 all'uno. Un milione e me... No, da 500.000 euro totale. Io ho... Vediamo? Ah, loro vogliono 9 milioni. Ok. Infatti mi pareva un po'. Mi pareva un po'. Allora. Andiamo qui con un milione e mezzo. Non è che tanto, ragazzi, oggettivamente con Carboni la plusvalenza è... È scritta. Andiamo a levare le percentuali. Finalmente Agho che fa una roba giusta. Ma sapete che io così comunque potrei anche starci. Però mi abbasso lo stesso. Così. Così lo paghiamo 5 milioni. Ok. Ok. 5 milioni e 500 Carboni totali, ragazzi. Io lo prenderei, sinceramente. Ho appena inculato Marotta. Sbaglio? Ho inculato Marotta. Cioè, ho... Ho spacchato Marotta. Ho spappolato Marotta. No, penso sia un caso. Mazza... Menzo Masterclass. Marotta distrutto. Finalizziamo l'offerta. Adesso mi chiede 3 milioni di budget. Sì, di... Di... Di coso. L'Inter ha accettato, ragazzi. Ci avevamo... Ci avevamo creduto. Ma Marotta non perde mai. Marotta non perde mai. Marotta non perde mai. Ci ha succhato noi. Eh, lo so. E' così, ragazzi. E' così. Marotta never perd. Marotta never perd. Incredibile. Quello è grandissimo. Quel grandissimo dirigente. Fammi vedere Bermudez, va. 14 di finalizzazione Bermudez. Però qui dice che non mi può fare il trequartista, il centrocampista offensivo. Nella realtà lo fa. Però vabbè. Esus Ferreira non me lo danno, vè. Proprio ufficiale. Ufficiale di nuovo, ufficiale. Tanto non me lo danno, ragazzi. Ok. 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 Ah, ziz. Lui? No. Non so chi sia. Hai perso la tua possibilità di consigliarmi un giocatore. Che inculata quella di Carboni. Ci sono rimasto un po' male, eh. Devo essere sincero. Devo essere sincero. Ciao, Lore. Piero Chispe, da mezz'ora che ti sto consigliando un fenomeno del calcio mondiale. Io ti leggo ma non ti rispondo. Giocatore che non si sa neanche chi sia. Cristianio è già in lista, Davide. Ok. Ok. It's a pensare. Ho fatto un'offerta Per Molero In maniera sconsiderata Purtroppo però Prende uno stipendio davvero altissimo Ci ho provato Ci ho provato ma prende uno stipendio Veramente veramente alto Che alzerebbe parecchio Le nostre spese attuali Ma daglieli Oggi live silenzioso ci ho provato Aero ne costa 40 milioni Vediamo cosa succede È che non glieli posso dare Quello è il fatto È che non glieli posso dare Bonus alla firma 2 milioni Vabbè Follia Follia pura Follia pura Follia pura Fiffra minima per recensione squadra staniera Valor limitato dall'agenda Vabbè quello ce lo posso anche da No niente Non è questione di sposta ai soldi Non è questione di sposta ai soldi Quando lo capirai sarà troppo tardi Non è questione di sposta ai soldi È questione che è un colpo troppo costoso Per le nostre casse Anche se spostiamo I cazzo I soldi Capiscilo Capiscilo Non è questione di sposta ai soldi Non possiamo prendere uno che prende 2 milioni Li prendeva il Der Weyreld Li prendeva No cazzo pensavo di poter fare E ho visto che non capisci Ma Paz non è in vendita Madonna però che dati 17 anni Cremaschi Pippa No non è una pippa Ragazzi dobbiamo decidere tra quelli che abbiamo Non possiamo andare Vabbè qui sono i difensori Menzo sta andando un po' troppo in giù Non possiamo attendere Non possiamo attendere Ma quindi questo Kispi? 8 di finalizzazione Ah però Non possiamo attendere Mi sa che abbiamo perso Ago ragazzi Mi sa che abbiamo perso Ago purtroppo Eh lo so Purtroppo è andata così Ecco è andato Mi sa che gli è stata la connessione Allora o andiamo Sustain o Ristanio ragazzi Quindi Vi faccio votare un minuto JohnGio grazie per il 27esimo Mese grazie mille Bentornato Un minutino poi proviamo Sì vi faccio vedere le schede Allora Se trovassi Prima di votare Questo è Stein O Stein Non mi dispiace Niente di che Però Questo è Ristanio Che dovremmo adattarlo A trequartista Intanto si può partire Certamente Si costa troppo Black Stein Il nuovo Cruif Addirittura Un attimo Un attimo Ognuno 12 milioni E mezzo Ma non esiste È andato a fare il culo Dentro Stein Con le rate Se vuoi ci arriviamo A A due milioni Ecco Perfetto Signori Dai Un milione e nove Lo paghiamo Va benissimo Va benissimo Ma già per l'usvalenza Dai Finalizziamo Questi sono i giocatori Che dobbiamo prendere noi Non Noi Cerchiamo Va bene così Va bene così Va bene così Questi sono i giocatori Che dobbiamo prendere noi Purtroppo Mi viene da dire Perché Mi piacerebbe puntare Qualcosina di più in alto Però È andata così Ragazzi Che vi devo dire Eh Cosa volete che vi dica Poi Provo Alvolissimo Alvolissimo Un'offerta per Pepi Proprio per dire Non è Non è di certo Il tipo di giocatore Che dovremmo prendere Però Per restare in tema Fammi vedere Realizzazione 14 Gruppo di testa 15 Non è un fenomeno eh Però Ha ancora 21 anni Sapete che ha un mio pupillo Magari me lo regalano pure lui Diciamo che mi farebbe stare Un pochettino più Tranquillo Comoderate ovviamente Come sempre Vogliono 8 milioni e mezzo 8 milioni e mezzo Un po' troppo per me Posso darti un milione e mezzo Subito E in totale 5 e mezzo Un milione e sette Te lo posso dare Va bene Andiamo con 6 milioni Allora 5 5 7 50 6 7 50 Alla fine 6 7 50 1 milione e 8 subito Vediamo cosa succede Abbiamo la partita Contro il Mechelen Ragazzi Offerta dell'Antwerp Per Pepi Accettata E offerta per Stein Signori Molto interessato E a stipendi Direi che ci siamo Allora Andiamo con Stein Anderemo a vista centrale Con il ruolo di mezzala No Rimuovi Ok Benissimo Negozia 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 Andiamo Abbassiamoci un pochettino Vediamo cosa mi dico Signori L'abbiamo preso Donato Questo Ti assicuro Che è l'ultimo anno Con l'Antwerp Te lo posso assicurare Se non dovessi andare via Iniziamo un'altra carriera Con il Ki Klaxvik Te lo posso assicurare Te lo posso assicurare Con Pepi Però secondo me Siamo abbastanza in linea Andiamo a giocare Dai Devo rispondere Per cosa Per Pepi Vabbè dai Avviamo Vediamo cosa succede A me A me pesano molto Queste richieste Soprattutto i bonus Alla firma Ragazzi Forse l'abbiamo concluso Bonus alla firma Non lo paghi subito Quando lo pago Alla firma Quando lo pago Scusami Facciamo partire Alla hashtag Free Ago No Ago Deve capire Che non è il suo Il canale E che gli acquisti Li faccio anche senza di lui Ciao Daviuzzo Grazie per il prime Guarda Eh però Però oggettivamente Oggettivamente Molero Forse era più forte Ma Costava veramente Tanto di più Ragazzi Tanto di più Punto esclamativo Punto esclamativo Eneba Donato L'ho preso lì Sponsor del canale Lo trovi scontato Se andiamo a giocare Questa pette contro il Mechelen Al volo Al volo Giusto così Tanto per E' già apparito Anche il Il rello Soelle 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 Reine Occhio la capocchia Marsa quando Quando fa così Cosa vuol dire Che non è registrato Van de Bosch Cristo Benedetto Abbastanza un dramma Quando è che mi fanno Riregistrare I giocatori Ah niente Si va così Si va così Marsa non lo posso Far giocare in campionato Quando è che posso Riregistrare tutti Penso si possa fare subito Ah ok Perfetto A posto Allora Perché Valencia No Perché Valencia Non posso Ok Marsa Perfetto Ok Ah togli un giovane Ok Togli un giovane Però devo avere Almeno tre portieri Però lui è Under 21 C'ha il senso Sti gazzi Ok Ah No scusatemi Chisito Chisito è uomo di coppa Ragazzi No mi dispiace Non possono Lasciare fuori Chisito Vole Confermato Si Marsa Tutto a posto Marsa Abbiamo poteri Forti Abbiamo poteri Forti E Anche te Valencia Vieni dentro Subito Sempre venire dentro Sempre Sempre venire dentro Però Van de Bosch Ce lo portiamo Eh no Mi si chiama Chisito Perché il gioco Non me lo trova Kwame K-W-W Kwame Si va Ago Sai che dopo Ago Comportati bene Dopo Il time out L'unica Soluzione È Il ban Sappilo Vediamo se riusciamo a Prendere la Rumba Anche contro Il Mechelen Che ansia sociale Che ansia sociale Per questo Per questo Questi siamo Nuove Costigna Costigna Hai da farti Perdonare È fuori gioco Mannazza I sandali È tutto Buonissimo Siamo avanti L'indichena Dai 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 Forza Forza Non voglio neanche vedere Un altro palo abbiamo preso Ma sta webcam Dov'è Meglio Secondo voi Ancora Non ce credo La traversa E siamo Già A due pali A due legni Ah ok Bozzi Grazie per la Delucidazione 30 gol E poi Voglio Ok Se fa 30 gol Il Nikena 50 60 Milioni Li viene a Valere Si fa 22 Tra l'altro Forse devo Aggiornare Oh no Amuzu Corre Steccare Steccare Maia Ma come sia per sta Mamma butte Da quando sa che deve andare al Tottenham Spettacolare Ma io porto Vittorio e fatturato Ciano Il bot è rimasto un pochettino indietro Un pochettino Un gran primo tempo Ragazzi Bravo Tommy Ti voterei come rappresentante Di istituto Primo tempo Primo tempo Direi positivo Positivo Certo Magari Se riuscissimo a fare pure il secondo Non mi dispiaceresse Però Le prime partite Sono un po' così Questa me la segno Quando sarei Eh vabbè Dai Son Q Non c'è E siamo a tre Cristo santo ragazzi Che sfigazza E tanto poi lo so Che alla prima occasione Piglio gol In questo secondo tempo Perché no Tommy Andreica Vermeer Costegna Era fuori gioco Per fortuna che non l'abbia segnato Sennò Risultavo eccessivamente Per nulla Possiamo recuperarla Sarebbe una zona Molto pericolosa Per recuperare un bel pallone Qua Invece ne escono Alla grandissima loro L'abbiamo recuperata Invece Son Q Brutto fallo Ce l'abbiamo ancora noi L'abbiamo ripersa L'abbiamo recuperata Vermeeren 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 Costegna Perché è così timido? Perché è così timido Costegna? Minchia riunione Nel pomeriggio Oddio Però quando passi Nei corridoi Dicono Dicono Quale L'ho rappresa Davanti L'istituto De Kuiper De Kuiper Bellissimo Bellissimo De Kuiper Sarà il costigna Dell'anno scorso Segnatevi Queste parole Segnatevi Queste parole Grande 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 Pallone Nel mezzo Dicono Una bella Stecca Arriva Andreica Bene Così Andiamo a fare Un po' di cambi Un po' rischioso Andare a distruggere Tutto adesso Però Ci posso Stare Sinceramente Il più stanco Mi è Vermeeren Andiamo con Yashari Anche Andreica Abbastanza stanco Non mi sono portato Dietro Tu Ipens Vabbè Andiamo con Valencia E' quello Il dramma Che In campionato Abbiamo Pochissime Riserve Dove si sta Nella sto gioco Io l'ho Comprato Su steam Però Puoi Acquistarlo Anche Dal sito Ufficiale C'è un fresco Di zona E Custina Sarà il Vines Dello scorso Anno Possibile Allora Siamo all'ottantesimo Vado a fare Degli altri Cambi Giusto Per chiudere In bellezza Andiamo Con lo Sceriff Al posto Di Lenichena Van de Bosch Al posto Di Marsa Battaglia Al posto Di Costinia Dici Lore Ma il gameplay Com'è Possiamo evitare Psicodrammi Contro il Mechelen Per favore Non vorrei Prendere Il gol Del Ok Dell'1-2 Sarebbe veramente Un peccato Bravo Scheriff Braun Oder Che bello Inserimento Però si perde Il pallone Ma te Guarda Butté Ma cosa Minchia fa Butté È già venduto Io non ci posso Credere Sono senza parole Ma questo Brividino Finale Ce n'era Ce n'era Veramente Bisogno Di questo Brividino Se ne voleva Andare Con il Bozzo Incredibile Non ho parole Non ho parole Fine partita Signori L'esordo In campionato Va Alla Grande Vinciamo I campioni In carica Si comportano Bene Direi E E Siamo felici E siamo felici Peccato Che Sta Supercoppa Eh La Supercoppa Eh beh Chiudo Chiudo Bastanza Rattristito Questo episodio Rattristato Questo episodio Per Per Questa Fazzenda Non riusciamo A portarci a casa La Supercoppa Perché Passeremo Un'attacca A due Ago E perché Lo sceriffo Non so se Mi posso fidare Dello sceriffo Soprattutto Soprattutto Quello In realtà Da Daviuzzo Non mi ricordo Se te l'ho ringraziato Ma grazie per il Prime No 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 Chiudi Devo mettere Riposo Invece di Totale Non posso più Vabbè Scusate Non sto capendo Cos'è che è arrivato Ah Tierno Idrissa Keita Vai Accetta Aspetta ma È una cessione No Ok ok Accettiamo Non puoi mettere Lo sceriffo Quinto Quinto Ed è che In che senso Quinto No Chizito L'abbiamo preso Per il meme Questi cazzi Quinto in che senso Perdonami Quinto Dove Queenman A parte che Non arriva Nessuno A quinta punta Beh Qui non arriva Nessuno Non viene Nessuno Non si vuole Trasferire Nessuno Quinto Di difesa Anche io pensavo Braccetto Braccetto Chizito Acquistato Per il morale Vabbè Voi fare un po' Di fisioterapia Lammens Chizito Infortunato Bellissimo Perché adesso Andrà via Butte E si è fatto male Lammens Lo sapete Vero Che andiamo a giocare La partita contro Leuveni Con il nono Portiere No Lo so Volevo cambiarlo Il totale Volevo cambiarlo Che non ho fatto in tempo Ho risposto Ad alcune cose Nella chat Me lo sono perso No no Basta Come si fa A togliere un giocatore Dalla lista Raga Devo togliere Anche quel totale lì Devo togliere Questo totale qua Butte per il momento Non è andato a fare in culo Purtroppo Forse Forse abbiamo ripreso Forse abbiamo ripreso Alvarado Ragazzi Chiudiamo qui Chiudiamo qui Con la possibilità Di prendere Pepi Ma Ancora Non Non arriva Con la possibilità Di prendere Stein Come trequartista Ma ancora Non arriva Con la possibilità Di vendere Butte Ma ancora Non è andato Quindi contro Leuven Giochiamo con Butte Fortunatamente Comunque In questi allenamenti In generale Sto inserendo Molte più Riabilitazioni E lo voglio fare Anche Prossimerie Un totale Prima della partita Questi sono pazzi Sono pazzi Sono dei pazzi Furiosi Bene signori Ci fermiamo qua Ah Ti prendevo per il culo Non voglio passare Le due punti Andrà bene Andrà male Non lo so Però Pepi Sarà il sostituto Di Lenichena Roberto Non è ancora Accettato di venire Lo sceriffo Lo sceriffo Si può dare in prestito Per farlo crescere A 17 anni Quindi direi che I miei due attaccanti Sono Pepi Che può giocare Titolare In Coppa In Europa In Lenichena Può farsi tutto il campionato Almeno due attaccanti Su cui posso fidarmi Quando ne metto su uno Non mi dà Brutti pensieri Io non sono Arrabbiato con te Ago Mi piace tanto Prenderti in giro Cioè Memare su di te Comunque Sceriffo Un braccetto Ci penserei Hashtag Pazza fatta Ma no Ma si scherza Si scherza Ragazzi È andata così Purtroppo Sconfitta In Supercopa Ma abbiamo perso i rigori È il destino Che ha fatto sbagliare Costigna Però il campionato È nostro Il campionato è nostro Obiettivo per quest'anno Crocchetta Per quanto riguarda la Champions Mi è stato detto Che sarà una Champions Diversa Non a gironi Perché effettivamente Il prossimo anno Sarà una Champions Diversa Sbaglio Fatemelo sapere Nei commenti Per quanto riguarda la Champions Per quanto riguarda la Champions